Il Ministero ha emanato ieri le nuove linee guida sulle quarantene, che sono ora allo studio sia degli uffici scolastici che delle ASL e della regione che devono poi tradurre in elementi operativi le indicazioni che le linee guida contengono. Queste prevedono una diversa modalità di gestione delle quarantene, una diversa modalità quindi di messa in sicurezza delle situazioni di criticità che si possono manifestare. Attualmente con un alunno positivo va in quarantena l'intera classe, con un docente positivo vanno in quarantena tutte le classi di quel docente, a prescindere dal numero effettivo di contagi presenti nelle singole classi. Le nuove linee guida dovrebbero modificare questo tipo di approccio rendendolo più articolato, evitando un'eccessiva diffusione delle quarantene a fronte di singoli casi. Vedremo anche come l'ASL, in questo caso l'ASL sud-ovest, deciderà di interpretare quelle linee guida in modo da poi trovare un'applicazione coerente. Sicuramente queste dovrebbero ridurre il numero di studenti in quarantena, quindi ridurre anche le difficoltà a cui le famiglie vanno incontro nel momento in cui un ragazzo viene mantenuto a casa, a prescindere dal fatto che sia positivo oppure no. Perché la quarantena praticamente prevede di tenere a casa anche un ragazzo che non è positivo. Ecco, in questo caso possiamo garantire la maggior permanenza a scuola possibile per tutti gli studenti. Poi quello che è l'andamento della pandemia è un fattore che esula certamente da quello che le scuole possono mettere in gioco. Sicuramente noi siamo certi che le scuole, perché lo abbiamo verificato, le scuole applicano in maniera molto stringente i protocolli sanitari e quindi sia di distanziamento che di uso di mascherine, sanificazione e quant'altro. Il numero del personale docente, almeno per quanto riguarda la secondaria di primo e secondo grado, è vaccinato, è altissimo, anche per quanto riguarda l'infanzia. Abbiamo molto alto invece il tasso di vaccinati fra i ragazzi dai 12 anni in su. Quindi sono tutti questi elementi che favoriscono un mantenimento basso del livello di quarantene. Il problema poi sarà quello legato alla scuola primaria dell'infanzia, dove non essendo vaccinati i bambini il tasso di diffusione della malattia può essere sicuramente molto più vasto e quindi i soggetti a rischio, che sono i docenti della primaria dell'infanzia, per quanto vaccinati tende ad aumentare. E quindi è lì che si deve concentrare l'attenzione. Ma d'altro canto, i problemi generali, attualmente la norma non prevede vaccinazioni per i bambini dai 5 ai 12 anni e quindi in quel caso dovremo vedere come si diffonde la pandemia in quello specifico settore di utenza della scuola. Pensate che praticamente cambierà qualcosa riguardo il trasporto e c'è il rischio anche di tornare in DAD? Per il problema dei trasporti lo deve chiedere l'assessorato dei trasporti. Per quanto riguarda il rischio di tornare in DAD, i dati che sono comunicati, e non ho motivo di dubitare che siano tali, è vero che c'è una recrudescenza pandemica, ma rispetto agli altri paesi d'Europa è molto più bassa. E quindi tecnicamente per rientrare in DAD dovremmo avere situazioni che ci portano in zona arancione o rossa. Ad oggi sappiamo che sono vicine al rischio giallo alcune regioni tipo il Friuli e l'Umbria, ma la Toscana non è fra questo, ma comunque la situazione di rischio giallo non comporta rientri in DAD. E poi tutto può essere a questo punto. Però sinceramente in questo momento, per il mese di novembre e inizio di dicembre, non vedo dentro le scuole anche dei dati che abbiamo rilevato di positività comunicati dalle scuole sulla nostra piattaforma. C'è sì un aumento delle quarantene e un aumento del tasso di positività interno, ma non vedo ancora situazioni a rischio tali da poter dire che ci sia la possibilità di una DAD diffusa e generalizzata. Il problema della DAD non dipende dal tasso di infettività interna alle istituzioni scolastiche, dipende dal contesto, perché noi andiamo in DAD nel momento in cui andiamo in zona arancione o in zona rossa. E questo è l'elemento che ci costringe a muoverci su quella linea. E la zona rossa e la zona arancione non è certo determinata dal tasso di presenza e di infettività dentro alle istituzioni scolastiche, ma dal contesto generale.